Un trattamento che avrebbe dovuto portare ad un miglioramento estetico si è trasformato in un incubo per tre giovani donne del Vallo di Diano. Le ragazze, dopo aver effettuato un trattamento estetico fai-da-te sulle labbra, si sono ritrovate al pronto soccorso con un gonfiore eccessivo e deformazioni che hanno richiesto cure mediche immediate. Sembra che le tre amiche abbiano tentato di aumentare il volume delle loro labbra utilizzando sostanze e tecniche non appropriate. Il risultato è stato un gonfiore esagerato e una deformazione delle labbra che ha destato preoccupazione tra i medici del pronto soccorso di Polla. Le ragazze, spaventate e doloranti, si sono rivolte al pronto soccorso dove hanno ricevuto le prime cure. I medici hanno prescritto ghiaccio e riposo ma la prognosi è ancora incerta. Non è chiaro se le labbra torneranno alla loro forma originale o se resteranno delle cicatrici. La bellezza non è tutto, hanno sottolineato i medici, è importante evitare soluzioni fai-da-te e rivolgersi sempre a professionisti del settore. La cheloplastica, ovvero la chirurgia estetica delle labbra, è una procedura medica che se eseguita da professionisti esperti può portare risultati naturali e soddisfacenti nonostante i rischi che qualsiasi intervento comporta. Azioni compiute da persone inesperte e incompetenti invece possono risultare particolarmente pericolose.